Nella goleada di Verona Inter 0 a 6 di ieri sera, oltre alla super vittoria dell'Inter, ovviamente ha fatto notizia anche l'ingresso in campo di un giovane della primavera dell'Inter, ovvero Mattia Zanotti. Non è in realtà la prima volta assoluta di Zanotti in Serie A, anzi è la sua terza presenza, di cui due nel corso di questa stagione, ieri è stata la seconda. In questo episodio vi vogliamo raccontare brevemente chi è Zanotti, la sua carriera, le sue caratteristiche tecniche e come è arrivato fino a esordire in Serie A e poi a accumulare altre due presenze. Ben ritrovati, ben ritrovati amici, amici, passione, interisti. Vi invito subito a cliccare sul tasto mi piace a questo contenuto e sul tasto iscriviti ringraziandovi anche per il raggiungimento dei 50.000 iscritti che abbiamo raggiunto nella magica serata di ieri dopo un risultato incredibile. Comincio subito a partire proprio da un riferimento alla serata di ieri, perché quando è entrato Zanotti alcuni tifosi ci hanno scritto un po' preoccupati dicendo ma Zanotti è squalificato in primavera, non è che non può giocare nemmeno in Serie A e quindi l'Inter rischia magari sconfitta a tavolino. No, tutto questo non sarà realtà. Nel nostro sito passioneinter.com ho trovato un articolo dedicato a questa questione che spiega cosa ne sarà appunto di Zanotti. Lo spoiler banale è che la giornata risqualifica la salta nel campionato primavera ma comunque può giocare in questo caso in Serie A. Per chi ci segue da YouTube parto condividendo la scheda di Transfermarkt di Zanotti che è un giocatore classe 2003, quindi ha 20 anni. È alto 1,77 metri, non particolarmente alto e gioca come terzino destro barra esterno destro come poi abbiamo visto anche ieri. Sulle caratteristiche tecniche ci torno. Fra poco con l'Inter primavera vanta considerata anche la Youth League e quindi la Coppa Europea primavera vanta più di 50 presenze con un gol e 5 assist quindi non è in realtà un laterale particolarmente avvezzo alla zona gol, almeno per il momento. Con la prima squadra, come vi dicevo, siamo invece a tre presenze. La prima l'esordio in Serie A l'anno scorso in Inter Cagliari 4-0 sostituisce Ivan Perisic e fa l'esordio in Serie A a dicembre del 2021. Quest'anno ha fatto qualche minuto contro il Lecce un paio di mesi fa partita vinta 2-0 dall'Inter e poi una mezz'oretta circa ieri sera sostituendo Dumfries intorno al minuto 65. La carriera di Zanotti è ancora un ragazzo molto giovane, dicevamo a 20 anni nasce in provincia di Brescia e comincia a giocare a calcio nelle giovanili appunto della sua città passando all'Inter nel 2017. Fa tutta la trafila dall'Under 17 fino all'Under 19, quindi alla primavera e esplode fondamentalmente con la gestione di Armando Madonna, ex allenatore della primavera dell'Inter completando poi anche con Christian Kivu che invece è l'allenatore attuale. Si era parlato anche negli scorsi mesi di alcune proposte arrivate anche dall'estero per acquisire Zanotti se non erano anche a titolo definitivo, l'Inter però ha sempre declinato perché Zanotti è uno di quelli su cui conta di vedere, di tirare fuori un calciatore magari di primo livello. Vengo quindi alle skills e alle caratteristiche diciamo così di Zanotti. Vi dicevo, è un terzino, nasce terzino destro però chiaramente può anche essere adattato a fare l'esterno nel caso di una difesa a tre. Non ha una tecnica di base così eccelsa e come abbiamo visto anche prima non è nemmeno particolarmente piazzato fisicamente. È abbastanza bassino per essere un laterale. Io penso per esempio ad Unfris o anche allo stesso Perisic. Sono molto più grossi fisicamente però compensa le sue mancanze con una grande corsa, ha una capacità polmonare molto importante e questa è una caratteristica ideale per un laterale e ha anche una forza nelle gambe non indifferente. Non è alto di statura però ha un baricentro abbastanza basso e ha una discreta forza nelle gambe. Chiaramente poi viene anche descritto come un ragazzo che negli allenamenti ci mette grande voglia, grande impegno, grande dedizione. Sono tutte caratteristiche, queste non vi sarà sfuggito, che lo fanno assomigliare se vogliamo ad un grande giocatore del passato dell'Inter, una leggenda, ovvero Javier Zanetti. Non a caso ci sono queste similitudini perché innanzitutto Zanetti è il suo idolo, lui stesso lo ha dichiarato in più di un'intervista anche l'anno scorso se non erro nel post partita di quell'Inter Cagliari. Nel ringraziamento al mister per l'opportunità e nel commento alla gara disse che Zanetti è il suo idolo ma se andate a recuperarvi anche interviste passate lo ha confermato più di una volta e in virtù di questo e in virtù del fatto che appunto ha queste caratteristiche tecniche e in parte anche fisiche se vogliamo la forza e la forza nelle gambe eccetera, anche i compagni nel corso del suo percorso all'Inter lo hanno paragonato più volte al Capitano con cui peraltro condivide anche una certa assonanza nel nome tra le altre cose e condivide anche il soprannome perché il soprannome in primavera di Mattia Zanotti è Trattore, il Trattore come Zanetti che era soprannominato è il Trattore. Chiaramente non sto qui a dirvelo Zanetti è stato un giocatore incredibile una carriera clamorosa, noi a Zanotti chiaramente auguriamo di seguire le orme del Capitano per il momento la cosa che mi sento di dire in chiusura di questo episodio è che mi pare di percepire da Simone Inzaghi un occhio di riguardo nei confronti di Zanotti anche perché quest'anno ha avuto anche dei problemi fisici che lo hanno tenuto fuori piuttosto a lungo nella prima metà della stagione, però se notate nonostante in primavera ci siano anche giocatori che vengono definiti, per esempio penso a Iliev per fare un nome o anche Stankovic che vengono definiti promettenti, interessanti anche dal punto di vista tecnico le volte in cui Inzaghi ha pescato dai giovani un po' meno, che vediamo con meno frequenza in prima squadra, con questo tendo a escludere per esempio Valentin Carboni che ormai è quasi un aggregato fisso, a Zanotti ha dato spazio, gli ha dato spazio, gli ha dato minuti ieri addirittura un dettaglio secondo me non indifferente quando entrano Zanotti e Bellanova, non è Bellanova che va a giocare a destra e Zanotti che essendo, diciamo, sfruttando quest'opportunità di questa partita si adatta al ruolo di laterale sinistro, no a destra ci va Zanotti che è nel suo ruolo naturale a destra e a sinistra si adatta a Bellanova non so se riesco a spiegarmi, cioè l'idea di mettere in campo Bellanova e Zanotti che sfrutta questa partita che si è messa un po' così fossi stato io in panchina avrei detto no, tu Bellanova che potresti giocare più spesso da qui in avanti gioca sulla destra e prendi minuti mentre tu, Zanotti, stai sulla sinistra e ti fai la tua mezz'ora invece è stata fatta la cosa opposta non so se Inzaghi quindi abbia chissà quali progetti intorno a Zanotti anche perché un allenatore sappiamo che non può neanche spingersi troppo in là più di una volta si è parlato di un Inzaghi che forse non sarà nemmeno il prossimo allenatore dell'Inter quindi non credo che ci siano progetti di questo tipo però è interessante il tipo di trattamento e di occhio di riguardo che il mister sembra aver garantito fino ad ora nei limiti chiaramente delle possibilità di una squadra che compete su più fronti come l'Inter a Mattia Zanotti questo era il suo identikit, la sua carriera, le sue caratteristiche un paio di curiosità vi chiedo chiaramente di lasciarci un mi piace ancora una volta e un'iscrizione al canale fatemi sapere nei commenti se intravedete qualcosa di particolare in Zanotti se vi piace se vi piacerebbe vederli seguire le orme del nostro storico capitano vi ricordo anche in chiusura il club di Passione Inter ragazzi ieri siamo stati chiaramente come sempre a commentare a Verona Inter fino a tardanotte e ci sentiamo quotidianamente per commentare le vicende di Casa Inter stiamo entrando nella fase calda della stagione quindi mi raccomando www.passioninter.club in chiusura per chi mi segue in podcast lo trova in descrizione se invece mi segui su YouTube ti lascio il commento a caldo di Verona Inter proprio qui ciao 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 ciao